CREPA BASTARDO CODI MA Siamo tornati su una funessa delle madonne Non è anche il tempo di dire Oh lui Non affa... Tante dire Chi è morto? Sì Sì SCADI Madonna che morte di... Granata in palto veramente Faccio la figlia di... Madonna ma sono molto brutto Porca puttana Che schifo Che cazzo fai? BANCE No G Oh il logo M'hanno fatto No vabbè perché era giusto così per passare a me Infatti a me frega la cazza Mi hanno fatto fatica Un attacco Mie Che schifo? Che schifo? Ah ma questo sempre a registrar Ah no, damalassi aia un batte freddune è meraviglioso c'è da un passaggio oh! è vero comunque a volte fin d'uno ancora oggi dopo 8 anni mi spacca i culi si il treno funziona ma è morto il treno? è morto è morto una persona il treno ha dei se... ma quanti king ho fatto? il treno come? è stato il tuo sio? compreso il genio annoda malacropp potete vedere anche quello che cazzo faccio abbiamo vinto come ci si sdraia? con zeta come? un attacco comunque è da... non fatti quando si è messo a me la porta scusate con un giro ragazzi è il treno è il treno è il treno esce ma quello è matto cazzo fin che non parlano perchè la loro lingua è veramente qualcosa di avverrante c***o tutto aia come? ma da che volo che ha fatto questi? come? no, anche io ero quasi fatto sono quasi pronto oh ci stanno più granate qua che oi le arsi come? ah no, è una macchina come? è una macchina alla lì allora se perdiamo adesso bestemmio ecco è la nuova oh ii vabbè vado pure io a rushare col pompa dentro gli obiettivi c'è un sbarro vento si, ice e questo cosa fai? quest'altro col pompa mi ha one shotato t'ho vendicato fatale non posso spawnare come no? ora si c***o 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 che io non ho subito serve al supporto bene grazie avete stato fatto il c***o arrivano anche i due da dove davvero di fronte a voi eh ma sono morto ok fermi ragazzi vi salvo io si guarda adesso muore oh oi cal no sono morto c***o 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 oh c***o no è che non ho visto quindi mi ha ammazzata stai lavorando stai lavorando chiediamo è meglio poi oh c***o i fumi Non ho capito dov'è Sto ammazzando sempre lo stesso Che è successo? Schermo nero Pure a me No, si chiacca tutto Vado io Vinto di trincea Ucciso Sono morto Mazzarciano poi Spagano Sono sopra qua Anche sotto stanno Metti l'obiettivo su anche lo stanno Poi in buc croc E nasì Non c'è Non c'è Non c'è Eh Torna nella zona di combattimento Sì Sì Ma Sì E' quello che sto dicendo A te mi dico Quelli che hanno scritto un bot alla fine sono dei bot Perfetto E abbiamo un nostro compagno che ci dice F3 bot Sto ammazzando il tuo cuore a scherdo sta parlando con un bot E' tornato con me Ovviamente la bomba del mio culo Eh certo Il nostro attacco è fallito Vabbè Vabbè Ragazzi Grazie di aver visto questo video Vabbè 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 Vabbè